Buongiorno a tutti, siamo al nostro quarto appuntamento con le interviste dell'ufficio informativo di Grosseto. Incontriamo oggi Lucia Venturi, presidente del Parco naturale della Maremma, un po' il fiore all'occhiello di quella che è la nostra offerta di carattere naturalistico. La nostra curiosità è di vedere un po' qual è stato il rapporto con il pubblico in questi mesi di chiusura, quali sono le novità relative alla riapertura? Buongiorno Lucia. Buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo, grazie per questa opportunità, perché effettivamente sono spazi utili per continuare a mantenere il rapporto intanto con quelli che sono gli abituali frequentatori del parco e ci auguriamo con quelli che saranno i nuovi frequentatori del parco. Abbiamo cercato innanzitutto di allietare le giornate a casa facendo vedere degli scorci di natura, degli scorci legati agli animali, alla fauna che ha ripreso il sopravvento e abbiamo giocato su questo anche in un breve montaggio di foto in cui si facevano parlare proprio gli animali che dicevano ma dove sono finiti questi umani? Andiamo a cercarli perché non si vede più nessuno, utilizzando naturalmente tutti i canali social, i canali multimediali, anzi ne abbiamo aggiunti. Abbiamo attivato anche una messaggistica su WhatsApp per poter mantenere in aggiornamento su tutte le varie iniziative naturalmente virtuali che riuscivamo a fare, sia quindi rivalorizzando, facendo ripercorrere attraverso Guardia Parco o anche attraverso le guide alcuni percorsi, alcuni sentieri del parco della Maremma, ma cercando anche di coinvolgere in questo una rete di aziende, di produttori locali che ormai fanno parte della rete del marchio Parco della Maremma e sono tanti, per cui chi ha preparato una ricetta con i propri prodotti, chi ha mostrato le attività in campo, così come abbiamo potuto seguire grazie a una telecamera che è installata sul nido tutte le vicende legate al ménage dei falchi pescatori e quindi come un grande fratello le abbiamo seguiti nelle fasi di deposizione delle uova fino alla schiusa e quindi in qualche modo abbiamo tenuto viva questa attenzione, cercando di creare anche un po', perché questo era anche l'obiettivo, la voglia di tornare non appena il parco finalmente poteva riaprire. Avevamo già aperto la ciclabile per Marina e Alberese, da ieri è aperta la strada per arrivare al mare anche con l'auto propria e da domani apriremo tutto il parco. La novità riguarda il fatto che abbiamo aperto un sentiero molto famoso al parco, che è il sentiero delle torri con l'arrivo a Colle Lungo, lasciandolo libero anche per quando sarà in atto la disciplina estiva, quando classicamente il parco si visita solo accompagnati da una guida. Ci sono una serie di attività obbligatorie per l'ingresso al centro visita, quindi il termoscanner, la mascherina, di distanziamento e quindi abbiamo già predisposto con una serie di adesivi anche a terra per far seguire più facilmente l'ingresso. Ci sarà la possibilità di fare dei sentieri più lunghi per chi è un amante della mountain bike ed è anche un esperto. Tante sono le novità che possono contribuire al benessere psicofisico dei cittadini. Possiamo considerarci più che fortunati ad avere un patrimonio storico, archeologico, naturalistico di così facile accesso. Il passeggiare in un parco è anche una grande medicina proprio per la parte psicofisica, a partire da un turismo di prossimità e quindi per tutti i residenti che potranno quindi trovare giornate di relax all'interno del parco della Maremma, raggiungere noi, raggiungere gli agriturismi, gustare i prodotti a Macchio Parco. Aspettiamo soltanto gli arrivi. Abbiamo tutte le carte in regola per accogliere in sicurezza quelli che saranno i visitatori, ma anche ricominciare a riscoprire quelle che sono le nostre bellezze. Un saluto a chi segue la pagina qui in Maremma Toscana e ci auguriamo di rivederci presto. Fisicamente a questo punto a fare una passeggiata nel parco, a scoprire, visto che lei è un archeologo, a scoprire le bellezze archeologiche che sono tante anche all'interno del parco della Maremma. Una piccola pillola, l'allestimento di una pieve romanica che è stata trovata sull'itinerario C1 del Collecchio e quindi sarà un valore aggiunto al di là della natura, poter vedere anche la chiesa cosiddetta del Cavaliere.